Imprenditori e lavoratori del turismo affrontano la crisi. Per i primi la chiusura totale prevista inizialmente non si è verificata, con il comparto che localmente subisce una flessione meno grave del previsto. Notevole perché il 40% però è una flessione contenuta e parrebbe che sia comunque in calo come flessione. Di conseguenza stiamo probabilmente recuperando. Diversa la questione per i dipendenti, dice la CGL. Buona parte degli stagionali è stata riassunta, spesso però a condizioni penalizzanti. Riassunti, richiamati, ma molto spesso purtroppo a condizioni diverse, cioè sono stati un po' presi in ostaggio dal fatto che c'è la crisi, quindi le ore magari che mi lavori saranno le stesse e cercheremo di pagarti un po' meno. Si parla di 2000 stagionali del Tiguglio rimasti senza lavoro, forse il numero è sottostimato. Quando noi pensiamo agli stagionali pensiamo generalmente ai lavoratori degli alberghi e degli stabilimenti balneari, ma noi abbiamo città come Portofino, me ne viene in mente una dove è tutto turismo. Lo stesso negozio di generi alimentari è turistico, quindi direi che è un dato, forse anche, si potrebbe anche aumentare. E senza contare che il bonus per gli stagionali emanato dal governo ha mostrato in seguito qualche pesante lacuna. Per dei difetti burocratici nel contratto stilato dai datori di lavoro, non essendoci nel contratto una S di stagionale, molto spesso bagnini del nostro comprensorio gli è stato rifiutato il bonus dicendo che non erano lavoratori stagionali. Positivo invece ricorda il sindacato il bonus del turismo promosso con la regione e legato alla formazione con 500 euro di indennità mensili per un massimo di 5 mesi e che ha ricevuto 15.000 domande. Così come il bonus per la ristorazione scolastica, un unatantum che fa tirare un piccolo sospiro di sollievo ma lo sguardo va con preoccupazione a settembre. Si sta continuando a parlare di scuola che riapra a settembre ma noi dubitiamo che riescano ad essere pronte anche le messe scolastiche o che i genitori siano ancora tranquilli di poter lasciare i bambini a scuola a mangiare. I lavoratori dell'appalti sono veramente ancora a disagio per molto tempo, sicuramente lo rimarranno più di quanto lo rimangano gli altri lavoratori.